Il giorno dopo la terribile tragedia di Lampedusa, per riflettere seriamente, a bocce ferme, come si suol dire, certo con la morte nel cuore per quello che è successo e che dovrebbe pesare come un macigno sulla responsabilità di quelli che mandano certi segnali, magari in buona fede. Sono segnali sbagliati, nel nostro paese si deve arrivare in maniera regolare e chi ne ha diritto, cioè le persone che fuggono realmente dalle guerre, deve essere assistito e naturalmente la responsabilità deve essere ripartita, come la Lega chiede inutilmente da molti anni, fra tutti i membri dell'Unione Europea e non solo scaricati sulla povera isola di Lampedusa e su quella gente straordinaria di Lampedusa che veramente merita il premio 9. Non bisogna dire venite in Italia che vi accogliamo tutti, perché ciò non è possibile, specialmente con i chiari di luna socio-economici che abbiamo nel nostro paese. Bisogna integrare bene gli immigrati che ci sono, accogliere se hanno un permesso di soggiorno quelli per i quali c'è posto e c'è lavoro, non obberare ulteriormente il nostro welfare e soprattutto sostenere concretamente un piano Marshall per i paesi di provenienza di questi immigrati. Bisogna aiutarli nel loro territorio senza sradicare i popoli. Quello di sradicare i popoli è un obiettivo del mondialismo che a noi fa semplicemente schifo, perché noi amiamo i popoli, tutti i popoli, anche quelli di un'etnia diversa dalla nostra. La dimostrazione anche sono gli ospiti invitati qui oggi a questo convegno, che vengono anche da Tunisia, dalla Sub-Sahara. Sì, certo, abbiamo una pluralità di espressioni. Ci sono persone che non la pensano come noi, sullo YouSoli. Ascoltiamo volentieri le loro opinioni, perché chi è forte nella sua identità non ha paura di confrontarsi con gli altri e questo vale naturalmente anche per gli altri verso di noi. Onorevole Fontana, lei ha affrontato il dibattito sulla cittadinanza rovesciando un po' il discorso, partendo da una mancanza di coscienza da parte anche degli stessi italiani sulla necessità di questo. Ma sì, bisogna rendersi conto che c'è un problema principale sulla questione dell'immigrazione e cioè questo, nel momento in cui ci dicono i dati che abbiamo il 40,1% di disoccupazione giovanile, nel momento in cui vedo in Veneto, come in Lombardia, ci sono tanti ragazzi giovani che stanno andando all'estero perché non trovano lavoro, è semplice il fatto, le persone che vengono qui, che emigrano qui, cosa vengono a fare? Ovviamente non potendo avere un lavoro perché non c'è in questo momento e non potendo quindi avere uno stipendio, come fanno a integrarsi, a vivere nell'onestà, eccetera? Si stanno cambiando anche le regole in tema di diritto d'asilo, che rischio c'è? Sì, il rischio è quello che vogliono fare in modo che gli stati membri trovino ai rifugiati politici entro sei mesi un posto di lavoro, vedendo che ovviamente in questo periodo non c'è lavoro neppure per gli europei, hanno detto che comunque a quel punto gli stati membri dovranno comunque mantenere questi rifugiati politici. Il problema è che è stata messa una norma da parte dei paesi del nord i quali hanno detto che lo status di rifugiato politico dovrà essere dato e quindi gli stati che manterranno queste persone saranno quegli stati dove queste persone arrivano. Quindi è evidente che saranno soprattutto gli stati del sud Europa e soprattutto l'Italia a dover mantenere e dare lo status di rifugiato a queste persone. Cosa prevedono i due emendamenti in tema di immigrazione che presenterà l'Europarlamento? Sì, noi mercoledì ci accendiamo appunto a votare proprio una direttiva sulla questione dell'immigrazione abbiamo chiesto da una parte che vengano aiutati nella gestione dell'immigrazione negli stati del sud Europa e dall'altra che gli immigrati che arrivano, i rifugiati politici che arrivano vengano ripartiti equamente per i 28 stati membri. Onorevole Molteni, la Lega ha sempre detto no all'Ujus Soli è un'occasione il convegno di oggi per ribadire il perché? È l'occasione per un confronto partendo da una posizione, quella della Lega che è ormai consolidata diciamo no all'Ujus Soli perché crediamo che la legge sulla cittadinanza c'è è una legge che funziona, è una legge del 90 e non vediamo il motivo per cui debba essere cambiata. Per noi la cittadinanza non è lo strumento per poter integrare ma è l'approdo finale di un processo integrativo. Oggi gli stranieri non hanno meno diritti, soprattutto i minori non hanno meno diritti dei minori italiani, anzi godono di tutti i diritti. La cittadinanza è una cosa importante, va voluta e può essere ottenuta nei modi stabiliti dalla nostra legge. Si può fare a meno però di far riferimento a quello che è successo in tema di immigrazione a Lampedusa in questi giorni il ministro Alfano nell'informativa ha detto che non si può appunto illudirsi che possa essere l'ultima volta si parla di rivedere le norme sull'immigrazione si mette in discussione anche la legge Bossi-Fini di tutto questo lei che opinione ha? Siamo partiti da una tragedia la vicenda di Lampedusa è una tragedia grave che ha portato orrore e vergogna e stiamo scadendo nella demagogia nell'ipocrisia e nella retorica se qualcuno pensa o si illude di far pensare che il problema di Lampedusa o meglio le tragedie che sistematicamente si verificano in quelle zone siano dovute ad una legge alla legge Bossi-Fini e si dice ciò per far ricadere la responsabilità politica sulla Lega io credo che siamo alla vergogna più assoluta affermare che la legge Bossi-Fini vada cambiata perché alcuni pescherecci questa è la teoria del sindaco di Lampedusa non sono potuti intervenire perché se fossero intervenuti sarebbero stati indagati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina sulla base della Bossi-Fini questa è una balla colossale la Bossi-Fini all'articolo 12,2 dice chiaramente che non è reato prestare aiuto e assistenza ai bisognosi è evidentemente la foglia di fico attaccare la legge Bossi-Fini e chiedere l'annullamento e il cambiamento della legge Bossi-Fini è la foglia di fico di chi è responsabile politico e morale di quanto è accaduto Lei ha detto una tragedia annunciata, perché? Una tragedia annunciata perché la mancata applicazione delle norme che erano state varate e applicate dal nostro Ministro Maroni in materia di prevenzione dell'immigrazione clandestina sarebbe sufficiente riannodare il discorso con gli stati dai quali in genere partono queste carrette del mare e piaccia o meno il fenomeno va controllato, va gestito e non ci si deve lasciare sommergere non vorremmo che magari sull'onda dell'emozione causata da questo disastro magari questo andasse a spienare la strada all'eliminazione della legge Bossi-Fini piuttosto che all'introduzione di quell'altro allucinante provvedimento più volte annunciato e cioè l'introduzione dello Ius Soli Boris Bignasca che è il Presidente della Lega Ticinese ma per la sezione giovanile oggi si parla di cittadinanza, di immigrazione ricordiamo allora in Svizzera dopo quanto si può essere cittadini svizzeri? In Svizzera si può diventare cittadini federali e cantonali dopo 12 anni però credo che la cosa più importante da dire e da affermare è che questo processo non è un processo burocratico non lo decide un funzionario ma è lo stesso popolo attraverso i suoi rappresentanti nei legislativi che vota e accoglie qualcuno nel proprio comune, nella propria città, nel proprio cantone C'è un percorso anche culturale, anche scolastico che bisogna percorrere? Chiaramente chi frequenta le scuole da noi ha un percorso agevolato per tutti gli altri ci sono dei corsi, degli esami ed evidentemente viene valutato il livello di integrazione e viene valutato anche quello che è il rispetto dell'ordine giuridico e delle leggi Finora cosa avete constatato in tema di integrazione? È chiaro che in Svizzera chi non è svizzero gode comunque di molti diritti quindi il processo per diventare svizzero secondo me significa soprattutto che uno ama questo paese e lo vuole difendere e non solo che vuole usufruire di quello che è il nostro stato sociale e le nostre infrastrutture Ci sono tanti, signora, quelli che hanno chiesto di diventare cittadini svizzeri e soprattutto di che nazionalità fanno parte? Ma l'immigrazione viene soprattutto dai paesi come Germania, Italia e Francia e poi da quello che è tutta la zona balcanica dopo la guerra appunto del Kosovo Ogni anno circa 40.000 persone di chi devono diventare svizzeri è come se ci fosse una città come Lugano ogni anno nuova di naturalizzati E' chiaro che chi viene da paesi limitrofi come l'Italia, la Germania e la Francia sa già una lingua nazionale e quindi è più agevolato Noi ci combattiamo contro quelle che sono le naturalizzazioni facili quindi la sinistra che vuole imporre la naturalizzazione per tutti anche a chi non rispetta le regole che abbiamo detto prima cioè l'ordine giuridico, chi non è integrato noi ci combattiamo queste naturalizzazioni facili Grazie Grazie Grazie